Questa è un'esperienza talmente particolare, speciale, che ha attirato la nostra attenzione lungo il percorso che noi facciamo nell'unità di strada, partendo dalla sede e Rogoredola al nostro punto di arrivo. Abbiamo, ci siamo imbattuti su questa realtà, che era diversa rispetto ai senza fissa dimora che noi assistiamo storicamente, fatta di ragazzi, come li hai descritti, persi, con un grandissimo bisogno di colmare un vuoto e che abbiamo sentito il bisogno di fare qualcosa, di non lasciare quella realtà a se stessa e provare a dare una mano. Quindi abbiamo creato una squadra dedicata che tutti i mercoledì esce e stanze a Rogoredola tutta la sera, quindi non soltanto un punto di arrivo come l'ora prima, che è partita insieme al progetto Rogoredola, che è partito anche con il Comune di Milano, la Prefettura e tante associazioni che lavorano direttamente nel campo del recupero di questi ragazzi. Cito alcune che sono quelle con cui collaboriamo di più, che sono la Casa del Giovane, l'Associazione Eris e il Gabbiano. E quindi la nostra attività, il nostro intervento consiste in quello di arrivare dai ragazzi, sempre con la presenza di queste associazioni, che nel caso in cui dovessero poi i ragazzi chiedere di uscire, andare a iniziare il percorso, loro sanno dove indirizzarli. Con lo stesso approccio che utilizziamo con il Senza Fissa di Mora, quindi con il tè, la brioche, qualche indumento, qualche genere di conforto per agganciarli. Quindi l'obiettivo nostro è quello di instaurare un dialogo, far capire loro che noi siamo lì per aiutarli e che abbiamo una soluzione da proporre loro e con la consapevolezza che poi ci è stata spiegata da psichiatri che ci formano e ci supportano per capire meglio questa realtà che tutti vogliono uscire. Quindi è dentro questi ragazzi la voglia di voler uscire ma magari non hanno avuto l'occasione, non hanno avuto l'opportunità, non hanno conosciuto la persona giusta. Noi vogliamo essere quella persona giusta che possa portarli verso l'inizio della fine di quell'inferno.